Lei come sta? Io la ringrazio. La ringrazio pure a voi. Però adesso è meglio se me ne vado. E dove? I carabinieri la volevano arrestare. Spiegherò le mie ragioni. Ma quali ragioni, Montelerone? Quelli cercavano solo una scusa. Invece, che ci dice di Navarra? Io devo stare attento a parlare con voi. Perché poi pubblicate tutto. E per lei è un problema? Io sto facendo una battaglia per queste persone. Sono abituato ai fatti, non alle parole. E noi qua lottiamo con le parole. Siamo l'unico giornale ad aver parlato di perrotta. E l'unico presente alla manifestazione. Mi dispiace, ma io non c'entro niente con voi. Ancora? Noi scriveremo tutto comunque. Non perda l'occasione di dire come stanno le cose.